Ciao ragazze, ciao ragazzi Ciao ciao Oggi ho di nuovo un ospite super super speciale Il mio pupetto con noi Che si presta sempre molto Molto felicemente Non sembra, però di solito No no, sono felice e contento Di fare queste cose Ok, dopo ti parlo quello che ci siamo messi d'accordo Come al solito Beh, devo dire che oggi abbiamo per voi Un video molto particolare Che non si è mai visto sul mio canale L'ho visto fare da Jenna Marbles e mi è sembrata un'idea Pazzesca E quindi voglio assolutamente rifarlo Cioè, oggi Tomas Sceglierà Per me un make up tutorial Solo lui potrà guardare il make up tutorial Con il computer Che c'è qua, avrà anche le cuffiette Lui quindi Seguirà questo make up tutorial E dovrà spiegare a me in diretta Come riprodurlo Notare appunto che io non vedrò, ne sentirò Questo make up tutorial, lo vedrà e lo sentirà soltanto lui Ti senti pronto? Prontissimo Oggi sei di poche parole Sì, ma poche parole ma sai farti Ah sì? Sì Ok, bene Che cosa ti aspetti da questo video? Che trucco vuoi farmi fare? Mi aspetto da come tu farai errori Grazie A causa tua quindi No, no, io provo apposta Allora, hai apposta Adesso sceglierà per me un make up tutorial Cioè, però devi tipo spostare il computer Perché io non devo vedere Io nel frattempo ho preparato un sacco di palette Cioè, per farvi vedere Questa Poi ho preparato 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 Questa Infatti, effettivamente, devi pulire la parte sopra dell'occhio Come devo pulire? No, 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 scusa No, no Ah, ok No, no No, no Abbiamo già cambiato idea Come prima cosa, mettere su un colore sopra l'occhio Che colore? Un colore Rosa Non è niente prima non mette sull'occhio? No, no Direttamente rosa Paf Sì Cavolo di tutorial, eh? Non mette un primer questa? O questo? Parte subito così Parte subito Anche con quale partire Ti faccio scegliere il colore Deve essere Che colore deve essere? Rosa Viola, rosa, sì Prima hai detto rosa Senti, già mi stai confondendo Rosa, rosa Rosa quale? Aspetta Quale rosa? Questo rosa? Poi aspetta, se no ho questo No, d'andere Ma Aspetta, scusa L'ho ne anche visto Scusa, ma questo qui Qui c'è più scelta C'è più scelta Ok, vai Questo rosa qua su Questo fucsia Sì, quello lì Questo è fucsia Quello è lì Allora, quello è lì Mannaggia, sti uomini Non sanno la differenza Tra rosa e fucsia Non fucsia Allora Devi metterlo su quel pennello Sopra l'occhio Ok Cioè, tipo Come? Tipo Sopra l'occhio? Sopra l'occhio qua Qua? Tutto ovunque? No, no, sopra qua Ma dove? Qua o qua? Dove? Qua o qua? No, qua Palpebra mobile Palpebra mobile Mobile Qua? Sì, palpebra mobile Qua sotto Un tocco? Filo acqua Ok Ehi, questo era molto caro Così? Ti sembra uguale il colore? Sì, spero un secondo Però che ti dico una cosa Ormai devi fare così Però lei qua Sì Ha un pennello molto più grosso Vabbè, chi se ne è fredda È molto più Molto più Polveroso Vabbè, non è importante Cioè, tu hai messo proprio il colore Vabbè, tu mi hai detto Devi mettere rosa fino a là E io metto rosa fino a là Ho sbagliato Scusa Come ho sbagliato? Non ho sbagliato tanto Però, praticamente, la parte sopra l'occhio Sì È pulita Non deve essere Qual è la parte sopra l'occhio? Questa? No, questa Questa Solo in mezzo? Solo in mezzo, sì Ok Eh Eh Tomas, bisogna stare attenti Che cavolo di make-up party Spogliamentare Eh, ho visto adesso Eh, ho visto adesso Eh Capito Adesso tolgo in mezzo Eh, devi togliere, sì Eh Ma qui ci sono i dischetti struccanti Strucca lei Strucca lei Sono nella parte sopra Non nella parte sopra Nella parte media Ha messo lei Con questo pennello Questo pennello Non quello di prima Questo Che è più grosso Più, più morbido Il tutto Con questo qua Devi fare Con lo stesso colore di prima Una parte Allora La parte Sulle sopracciglia Lascia la bianca Così, sì Brava Perfetto Finalmente Hai anche intivato Io Hai anche intivato Sei tu che non sai dire Aspetta che non ho finito Sì, sì Anch'io Ho già una novità Oh, caro Vedo che hai scelto proprio un trucco molto sobrio Sì, super sobrio Adesso Prendi un colore viola Questo Quello lì Quello lì Questo qua Allora, lo applichi sempre Non sopra le sopracciglia Allora, questo è il sopracciglio Perché dovrei applicarlo sopra le sopracciglia? Non sopra le ciglie Non quella riga sopra Sì Ma Ma Qui sul Dove c'è l'angolo Non è che ti stai divertendo Semplicemente a prendermi in giro e basta No, io mi diverso molto Invece Mi piace molto E quindi Mi stai Prendendo in giro Sta andando molto bene il lavoro Invece mi piace Il lavoro? Sì Cos'è? Lavoro di muratura? Poi fate Adesso Adesso Quel punto bianco Che è in mezzo agli occhi Sì Ecco Quel punto lì Sì Non so cosa mette qua lei Però devi mettere qualcosa Tipo una cremina bianca O una cremina Diciamo Colore Pelle Una cremina colore pelle Che può essere questa Non so quale Quale però diciamo Allora Questa cremina colore pelle Potrebbe essere un primer Non siamo sicuri Però a naso Così Cavolo E' un make up tutorial Diciamo Un po' più largo Però Slarga un po' Slarga? Questo è un make up tutorial Ragazzi Tutto in triestino Dovete sapere Oggi abbiamo deciso Che noi faremo un make up tutorial Tutto in triestino Adesso Lei ha preso Un colore Un colore Tipo un verdolino chiaro Tipo Questo Questo giallo Questo verde Questo colore Sopra quello Questo verde Quello sto verde Sopra il triestino Ok Ma che orribile Make up tutorial Verde Verde Adesso Adesso Vorrei mettere Il colore giallo Sempre là in mezzo Come sempre là in mezzo Ho appena messo Quello verde Adesso metti Sopra quello Sopra Sei sicuro? Sì Non era molto sicuro Questo sì Adesso a questo punto Ti chiederei Di mettere un colore Molto scuro Qua in mezzo Aspetta Lo fa lei O No lo fa lei Ah ok Molto scuro Tipo Nero Tipo Tipo Nero Tipo questo Si puoi vedere Forse anche blu scuro All'imitario Allora È nero O è blu Eh non so Nero quello Nero Mettelo qua in mezzo E poi in mezzo No Il rifiuto è orribile Lei lo fa Aspetta Aspetta Un secondo Sopra me Mette il viola Allora È blu È nero È viola Qua dice Lei dice Black Black Quello metto Sto black Questa parte qua C'è Qua Qua E qua Sì Ti vedo molto in dubbio Sì Sì Vai Vai Non andrà Troppo in basso Fai un po' più alta No no Solo qua E non andare in dentro Solo qua Ma è orribile Sì però Lì andrà un po' più Anche più su Sopra Più Come hai detto Non salire Più su Sopra Così sì Uguale immagino No Circa Ah ecco Devi fare la stessa cosa anche dall'altra parte dell'occhio Ma che roba oscena Non devi fare anche dall'altra parte dell'occhio Questa parte qua Deve diventare nera Deve diventare nera È un tutorial per Draquina Di la verità Vai dai vai Dai dai vai Io ti odio È orribile sta roba Io penso che questo sia il video di questa tipologia più brutto Che si sia mai visto Non da solo nella storia di Youtube Ma nella storia proprio di internet Ma neanche solo di internet Proprio nella storia dell'umanità Allora Se non sai cosa fai E pulisci tutto E no E no Questa è la tua creazione Mette un verde Tra il verde e il blu Lo mette qua in mezzo E ho messo il verde Cioè lei ha messo il giallo Poi il verde E adesso mette il blu sopra Sì Sì Cioè se non è un tutorial da drag qui in questo Ma è quel turchese Di nuovo sopra Tre colori uno sopra l'altro Io denuncerò questa persona Che ha fatto questo video Sei perfetta Nella parte Sopra l'occhio C'è qua sulla riga dell'occhio È già tutto pieno Ok Devi fare con una matita Una matita Diciamo blu Una matita blu Non nera No blu Ma qua sopra Qua Qua va Su questo angolo qua È un pennarello O è una matita O è un pennello A me sembra una matita Una matita blu Vado a prelevare subito Una matita blu Scusate Non prevedevo L'uso di una matita blu Non scrive Vado a prendere un eyeliner Aspetta Ok così Sì così Questa ragazza C'è un trucco perfetto È mio Com'è È stranico Colori Oh mio dio Adesso Adesso Ne servono Brillantini Pure Sì È ovvio Che questa Dopo aver fatto Questo trucco Qui sopra Ci metteva Anche i brillantini E di che colore Diciamo più sul blu Diciamo no Non sono blu Sono bianchi E che brava che sei Ah grazie Ok vai Dunque queste sono linee Infatti adesso devi fare infatti Un eyeliner Devi usare un eyeliner Questo l'hai sentito da lei? Sì Eyeliner Eyeliner Sì Eyeliner E devi fare qua L'occhio Devi fare una riga Di che colore? Nera Ok questa è l'unica cosa certa Di questo video L'eyeliner Un po' Un centimetro a fuori Fino qua Fino a qua? Sì Cioè diciamo un po' più su dai Un po' di più Un po' di più Così sì E che è? Sono orribile Ok ma Allora Di là Audrey o Denver Sta vomitando Perché mi fa schifo Allora Allora senti una cosa Dimmi Devi trovare questa linea Di brillantini Devo fare la linea Questa linea di brillantini Sì Devo fare la linea Se vuole una linea Un po' più tranquillo Non riuscire a trovarla No Questo è il massimo Giusto per capire Grazie Sì è che è un po' Spagliato Dirti Eh vabbè Cioè Perché qua è diverso Diciamo Tu sei più un pugno Nell'occhio Au Metti sopra il nero Metti questo Sopra il nero Metti questo Fai tutta la riga Dell'occhio Dei mettere su una cremina bianca No No Io non rifiuto Sopra una riga Fai la riga qua Bianca Lei ha steso l'eyeliner nero Poi il glitter E sopra questa roba bianca Eh perfetto Dai così Ecco qui che viene bene Ma allora perché ha messo quello nero E poi il glitter se li copri Non capisco Non so Non capisco Magari ho perduto qualcosa Io Penso che sia molto probabile Non so se è piutturata bene adesso Adesso metti il primer Sulle guance Il primer? Sì Scusa il mascara non l'ha steso? Ho comprato il primer Solo sulle guance Non naso fronte Non solo sulle france Magari il naso Magari anche il naso Anche il naso Anche il naso Allora Immagino anche sulle france La parte diciamo proprio Sopra le ciglie Qua sopra o qua? No Qua sopra le ciglie Ma proprio leggermente Ancora qualcosa va a metterci? Cinque strati di roba? Ok Cosa? Proprio qua dove crescono Metti sopra il colore nero Il mascara quindi? Non so cos'è Ok E una roba tipo questa? No No Io metterò questo No perché non capisco Cos'è una roba nera Sulle ciglia dove crescono Cioè Adesso Con una specie di Con un Un piccolo Pennello Metti un po' di colore Sulle guance Un po' di Un po' di Scusa Marrone chiaro Marrone chiaro Sì Lei non ha messo altro Primer e poi Il colore sulle guance Sei sicuro? Sì Sarà una terra? Questa qua Sì questa qua Ok Dove lo metto qua? Sulle guance Così Così? Sì sì C'è colore questo Vuol dire sì Poi? Abbiamo appurato Che questa non era terra Probabilmente Ma era fondotinta Solo che lui mi dice Marrone Perché lei Evidentemente O lui Non so Avrà Un colorito scuro Di pelle Io non posso Applicare qualcosa Di marrone Così? Sì così Adesso sta mettendo Solo questo Su Adesso metti Un'altra Non so Se è fondotinta Anche questo Sì Sotto gli occhi Questa parte Quello è il correttore Correttore Ok Lei lo mette anche Sulla Sulla Qua Sul mento Ok Anche qua Sulla fronte Anche sul naso Sulla fronte Sulla fronte Sul naso Sulla riga del naso Adesso Adesso La parte Sotto le guance Questa parte qua La devi fare Un po' più scura Ok Quindi immagino Che sia la terra La terra Sì Perché lo sapevi Anche qua sopra Uguale Anche qua Fino Sulla gli occhi Ok Qui ho capito Perché fa il contouring Oddio Ok Adesso fai la stessa cosa Sto sfumando Anche sopra Anche sulla fronte E su in alto L'ho fatto Adesso Prendi una penna Una penna Una penna Una penna Viola Una penna viola Sì E fai L'occhio Qua sotto Ok Perfetto Adesso Adesso Mi dice che mette su Liquid lipstick Tipo rosato Tipo rosso Tipo rosato Tipo rosato Normale Sì Normale Io ho finito il video Comunque Ah Perciò fai bene Tu mi hai fatto fare una roba Nonoscena Cioè È disgustoso No Non sei brutta Dai Ah grazie Questo era un complimento Non sei Cos'è che ti dice tuo marito Eh A me dice che sono la più bella del mondo E a te Nicole Mi dice Ma non sei brutta Dai Cosa mi dì Cos'è di colpa tua Ho dovuto cambiare videocamera Perché l'altra aveva la batteria scarica Adesso è il momento della verità Io adesso vedrò Vedrò il trucco Che io dovrei avere addosso No no Ti dico Non è Quello che dovresti avere Ma non è riuscito bene Grazie Mio dio Beh effettivamente hai ragione Cioè I colori sono quelli Sì effettivamente è vero Mette 500 colori Non è una drag queen E secondo me non è un brutto trucco O è questo Ma secondo me sì No non è un brutto trucco Solo che Cioè non è esattamente Quello che ho io Riesco a capire Quello che tu intendevi Quando mi dicevi No lei ha messo la riga di glitter Qua sopra No La linea di eyeliner è lunga Quindi capisco È vero È vero Però diciamo che Lei ha anche sfumato Da qualche parte Tu questo non ho mai detto di farlo Lei è esattamente Qui sfumava Non mi ha detto di sfumare Infatti il mio è una patacca oscena La cremina marrone Il fondotinta del suo colore Io non ho parole No vabbè tutto sommato Devo dire Sei stato bravo Questo Per fortuna Però hai scelto Il tutorial più ridicolo Più assurdo E più Sbrillucicoso E colorato Sulla faccia di youtube Hai scelto proprio Un tutorial difficile C'è da dire Tu come ti ritieni Soddisfatto No Non sono soddisfatto Perché all'inizio Non alla fine Sono soddisfatto Però Però all'inizio Abbiamo Abbiamo fatto Troppo misculo Di colori È vero E quello abbiamo sbagliato È vero È venuta fuori un po' Una patacca Sì Non sfumata Diciamo che Dovrei rifare Ah grazie Qual è Qual è il tuo commento finale Diciamo che Dovrei rifare Questo è quanto Per il video di oggi Ragazzi Io tutto sommato Mi sono divertita Secondo me Lei comunque Si sente una bella ragazza Anche con questo trucco Sì molto Sono bellissima Sto smettendo E prendermi in giro Cattivo Io sono contento Sì contento Ah questo Sono contento Anch'io Adora Secondo me Sei stato bravo Dai Secondo me Sei stato molto bravo Perché era un trucco difficile Se avessi scelto Un trucco più semplice Sarebbe stato Secondo me perfetto Però vi state divertiti con noi Io mi sono divertita Ma non lo rifarò mai più No ma voi Voi non Poi non lo sapete A noi adesso Oddio sta già ridendo Poi noi adesso Andiamo a mangiare una pizza E lei va fuori così Perché? Chi ti ha detto Ah sì? Ok Credeteci Ciao Ciao miei femmini Un bacio grande Ciao ciao Grazie Pupetto Che ti sei prestato Per questo video Con noi Grazie Grazie Buon chino Finale Grazie Ciao 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 Grazie a tutti.